Ci troviamo a Stia, via Fiorentina, meglio conosciuta anche come Belvedere di Stia. Alle mie spalle vedete una delle frane, dei cedimenti più importanti che sono avvenuti nel territorio provinciale di Arezzo, interessato dalle piogge negli ultimi tempi. La frana che vedete alle mie spalle ha fatto cedere all'incirca di due metri la sede stradale. Insomma, sono immagini assolutamente impressionanti quelle che vedete alle nostre spalle. Ovviamente il servizio viabilità della provincia di Arezzo è al lavoro per cercare di ripristinare non solo questa situazione che è una delle più gravi, ma anche quelle che si sono verificate nel resto del territorio. Le criticità coinvolgono la viabilità su tutto il territorio. Ci sono frane nel comune di San Giovanni Valdarno e località Uzziano, lungo la provinciale 12 di Santa Lucia. Sensi unici alternati sono in vigore nella provinciale 62, Alto Corsalone, nel comune di Bibbiena. Nella regionale 71 e in località Ponte Bifolco, sempre nel comune di Bibbiena, sulla provinciale 64 di Ortignano e ancora movimenti franosi anche lungo la provinciale 57 di Catenaia e sulla provinciale 58 della Zenna. Restano inoltre chiuse le strade provinciali 67 di Camaldoli al chilometro 18, 74 della Scarpaccia al chilometro 1 più 300 e provinciale 60 di Chitignano al chilometro 8. Ci sono poi allagamenti o cedimenti su diverse strade comunali e vicinali, prevalentemente in Val Darno e Casentino. Il vero e proprio pericolo per le abitazioni e per i cittadini si è corso alla Terina, in prossimità della Diga della Penna, dove nella notte è stata emanata e poi annullata l'ordinanza di evacuazione di 40 persone. Nel comune di Montevarchi, nella collina di Ricasoli, una frana che ha un piede di circa 25 metri ha minacciato un'abitazione. In Casentino, un'altra frana in località, Le Motte, nel comune di Talla, minaccia in questo caso due nuclei familiari, come lo smottamento a Castelluccio nel comune di Capolona, che ha interessato un'abitazione. In Val di Chiana, infine, il comune più colpito risulta essere quello di Foiano, con strade comunali e vicinali allagate.